Cancello aperto e degrado dappertutto. Stiamo parlando della situazione in cui versa oggi l'ex casa dello studente ed ex centro servizi culturali della regione Abruzzo di Chieti, chiuso dopo il terremoto del 2016. L'indignazione popolare scattata a seguito del video denuncia realizzato dal regista Fabrizio Franceschelli è postato sui social che in poche ore è diventato virale. La prima cosa che rimbalza agli occhi dell'autore del video sono i diversi volumi dell'enciclopedia Treccani con valore di mercato che può superare il migliaia di euro usati come spessori per rialzare trampolini con cui saltare con gli skateboard. E poi tanti libri lasciarti marcire in mezzo a pozzanghere d'acqua, estintori, non mancano anche segnali stradali. La cosa non è certo migliore all'interno. Porte di velte, vetri rotti, scaffali buttati a terra oltre a scritte su scrivanie e muri. Come detto, il video ha fatto subito il giro del web, scatenando di conseguenza anche la reazione della politica. Nonostante i soldi spesi per la sua ristrutturazione, la regione Abruzzo ha ritenuto di mantenerlo chiuso e in preda a un progressivo deterioramento. Il commento del sindaco Diego Ferrara e del vice sindaco e ossessore alla cultura Paolo De Cesare. Come amministrazione comunale proseguono, abbiamo le mani legate, non essendo lente proprietario e nulla possiamo fare se non sollecitare chi di dovere. E' indispensabile che la struttura torni attiva perché si trova nel cuore della città e non può restare in queste condizioni. La regione faccia presto. Noi, concludono gli amministratori, siamo pronti a fare la nostra parte affinché quegli spazi, patrimonio di tutti, non finiscano preda del tempo e dei vandali. Ad incalzare la giunta Marsiglio anche le opposizioni in consiglio regionale. Questa condizione di degrado rappresenta il fallimento di una visione politica miope, concentrata fin dal suo insediamento più nella spartizione delle poltrone che nella gestione della cosa pubblica. E' il duro messaggio inviato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Barbara Stella e per cui la situazione in cui versa la biblioteca sarà oggetto di un'interpellanza regionale. A distanza di 24 ore il degrado, quantomeno quello del piazzale, è stato ripristinato, così come testimoniano anche le immagini. A chiederlo al presidente Marsiglio, il gruppo consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ora lavoro per riconsegnare la struttura al pubblico per un uso collettivo nel più breve tempo possibile.